33 avvisi di conclusione delle indagini da parte della Procura di Bari sono stati notificati a residenti nelle province di Bari e Caserta nell'ambito di un'inchiesta su un'associazione a delinquere finalizzata al furto, alla ricettazione e al riciclaggio di veicoli di grossa cilindrata. Le basi dell'organizzazione erano a Santeramo in Colle, nel Barese e Villa Literno, nel Casertano. I campani provvedevano al furto in tutta Italia degli automezzi, alla loro contraffazione e alla successiva nazionalizzazione con l'utilizzo di carte di circolazione tedesche rubate in bianco in Germania e annotate con dati riconducibili ad analoghi veicoli realmente esistenti e circolanti in quella nazione. I malfattori baresi provvedevano a rimettere i veicoli sul mercato ad acquirenti spesso all'oscuro della loro provenienza. Le indagini riguardano fatti risalenti al 2010 e ai primi mesi del 2011, si sono avvalse anche di intercettazioni telefoniche e ambientali. A nove persone è stato contestato il reato associativo, mentre ai restanti 24, molti dei quali recidivi e pluri pregiudicati, sono stati addebitati singoli episodi delittuosi. Nel corso delle indagini sono stati individuati 55 veicoli di alta gamma oggetto di ricettazione e riciclaggio, sono stati sequestrati e nella maggior parte dei casi sono stati restituiti ai legittimi proprietari.